Paolo! Paolo! Paolo Alcoma! Paolo! 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 Se levano, perché è passato! Grazie! Sinistra, grazie! Dai, dai, regalo! Grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Io dico, l'hai fatta le foto, no? Ma qual è il problema vostro? Dovete sempre farsi a sceneggiare! Che cazzo le foto ci saranno mai da fare? Oh, c'è la scala mobile! Grazie! Paolo! Paolo, Paolo! Paolo, mi fai così, 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 così... Grazie! io mi monto sopra, ve lo dico prima qua, qua, mister la prima cosa che farai in Grigoria paolo, 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 scusa paolo gli fammi una foto, aspetta aspetta, aspetta, non ti hai fatto il sole